Anche da Treviso, come da tutte le altre città del nord-est, le Climate Defense Unit partiranno per la manifestazione di Ende Glende, in Germania, a Bonn, poiché è fondamentale che il carbone resti nel sottosuolo per fermare i cambiamenti climatici. La Germania è il maggior produttore mondiale di legnite, i politici e le compagnie non stanno facendo nulla di concreto e questo significa che la responsabilità dell'uscita dall'era del carbone è nostra. Le negoziazioni internazionali sull'attuazione degli accordi di Parigi avverranno proprio a nell'autunno 2017 e noi, come attivisti delle Climate Defense Unit, andremo agli scavi di legnite, nella più grande miniera a cielo aperto d'Europa, per manifestare contro l'estrazione del carbone e a favore di misure intelligenti contro il cambiamento climatico, insieme ai compagni e le compagnie di Ende Glende, cioè qui e non oltre. Porremo delle barriere sul percorso dell'industria del carbone e combatteremo la crisi del clima lì dove viene innescata, nelle aree carbonifere della Rhineland. Ribelliamoci a questo sistema predatorio, difendiamo il pianeta insieme!